E' scritto a parlare il deputato Stefano Vignaroli. Prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Volevo parlare del comma 9, in particolare del finanziamento per la raccolta differenziata a Roma, che di per sé va bene, però qualche domanda io me la faccio. Innanzitutto non so se il Governo sa che il patto per Roma, di fatto, che imponeva la raccolta differenziata al 65% entro il 2016, e già era in deroga al testo unico ambientale che la imponeva già oggi, però si sa che le leggi sono scritte per non essere rispettate. Già Zingaretti, giorni fa, è uscito fuori con le nuove linee guida del piano regionale, e lui è uno dei responsabili di questa situazione emergenziale a Roma, in quanto era anche Presidente della provincia. E' già dichiarato che nel 2020 si raggiungerà questa cifra del 65%. Quindi perché c'è questa difficoltà di puntare alla raccolta differenziata? E quindi mi domando, questi soldi andranno veramente per la raccolta differenziata? Perché qualche domanda me la pongo. Innanzitutto c'è un monopolista dei rifiuti che punta su discariche inceneritori, e già nel piano regionale si vuole spingere per aprirne altre due linee, sempre a Malagrotta, dello stesso imprenditore, e sempre nella Valle Galeria, che già è così disastrata. Una linea che doveva essere già attiva, che non funziona e forse non si sa se mai funzionerà, che già si sono spesi diversi soldi, anche il GSE, con un accesso agli atti che abbiamo fatto noi del Movimento 5 Stelle, abbiamo visto che la situazione è compromessa. È compromessa perché la tecnologia è sperimentale, ci sono dei diritti della Thermoselect, che già ne ha costruiti altri in Germania, che sono falliti, sono fallite le imprese, si sono licenziati i lavoratori. Quindi non si riesce a farlo partire, nonostante questo si vuole investire nuovamente in altre due linee che sono praticamente identiche. Poi non si parla ovviamente di impianti di riciclo, la raccolta differenziata non è sinonimo di riciclo, per cui già questo è un grosso difetto di questo piano, ecco perché poi questi investimenti spesso sulla raccolta differenziata sono a perdere, perché poi non c'è un mercato di riciclo che ricuperi e guadagni dei soldi su questi investimenti. Si parla poi inoltre di nuove volumetrie, cioè di ampliamenti di discarica, si parla sempre della discarica di Malagrotta, di un allargamento, di un allargamento a cupinoro, insomma in tutto il Lazio alleggia questo problema dei siti. E non solo, l'Europa ci dice che entro il 2020, che noi diciamo di raggiungere un 65% di raccolta differenziata, non si sa come, l'Europa ci dice che entro il 2020 non dobbiamo più bruciare rifiuti differenziabili e compostabili. E quindi qualche domanda me la pongo. Già quindi se nei piani non si arriva alla totale differenziazione del rifiuto, siccome noi spesso gli obiettivi che ci poniamo non li rispettiamo mai, quindi di certo noi nel 2020 non potremo rispettare nemmeno questa direttiva europea. Poi mi faccio delle domande. Questi soldi innanzitutto sono soldi pubblici, della Thermoselect che già ne ha costruiti altri in Germania che sono falliti, sono fallite le imprese, si sono licenziati i lavoratori. Quindi non si riesce a farlo partire, nonostante questo si vuole investire nuovamente in altre due linee che sono praticamente identiche. Poi non si parla ovviamente di impianti di riciclo. La raccolta differenziata non è sinonimo di riciclo, per cui già questo è un grosso difetto di questo piano, perché ecco perché poi questi investimenti spesso sulla raccolta differenziata sono a perdere, perché poi non c'è un mercato di riciclo che ricuperi e guadagni dei soldi su questi investimenti. Si parla poi inoltre di nuove volumetrie, cioè di ampliamenti di discarica. Si parla sempre della discarica di Malagrotta, di un allargamento, di un allargamento a cupinoro. Insomma, in tutto il Lazio alleggia questo problema dei siti. E non solo. L'Europa ci dice che entro il 2020, che noi diciamo di raggiungere un 65% di raccolta differenziata, non si sa come, l'Europa ci dice che entro il 2020 non dobbiamo più bruciare rifiuti differenziabili e compostabili. E quindi qualche domanda me la pongo. Già quindi se nei piani non si arriva alla totale differenziazione del rifiuto, siccome noi spesso gli obiettivi che ci poniamo non li rispettiamo mai, quindi di certo noi nel 2020 non potremmo rispettare nemmeno questa direttiva europea. Poi mi faccio delle domande. Questi soldi innanzitutto sono soldi pubblici e, in teoria, secondo sempre un principio europeo del chi inquina paga, dovrebbe essere invece chi inquina a pagare. E chi è che inquina? Anche i produttori di imballaggi. Solo che il Conai, che raccoglie i soldi di questi produttori, si vanta anche che fa pagare bassi contributi, i più bassi d'Europa insieme alla Bulgaria. E non solo, riversa ai comuni una cifra molto piccola di questi introiti che prende, circa il 30%, mentre in Francia, per esempio, è più dell'80%. Per cui i comuni sono sempre in difficoltà, sia come bilancio che come risorse per effettuare la raccolta differenziata. E quindi invece dovrebbero essere anche i produttori di rifiuti a pagare, e invece pagano sempre i cittadini. Faccio un esempio. Nel testo unico ambientale c'è il 178bis, che invita il Governo a emanare dei decreti per far pagare i produttori dei rifiuti. Cioè, se io produco dei rifiuti inutili, dei prodotti che magari vanno subito nella discarica, giustamente io devo pagare una tassa, altrimenti io non ho nessuno stimolo a produrre meno rifiuti. Bene, il testo unico ambientale è stato stipulato nel 2006 e il Governo ancora non ha fatto nemmeno un decreto a riguardo. Quindi qui si vede come c'è la forza e la volontà di cambiare strada. E non solo. L'Europa ci impone anche un piano di riduzione dei rifiuti. Fino adesso è stato fatto soltanto un piano molto generico e superficiale, senza nemmeno un investimento. Per cui non serve fare la raccolta differenziata se mancano gli impianti di riciclo e soprattutto, e l'Europa ci impone una certa gerarchia, l'incenerimento e la discarica sono soltanto l'ultimo stadio. Bisogna ridurre i rifiuti e riciclare e quindi fare la raccolta differenziata. Per cui a Roma nulla di questo è stato fatto. E quindi tutti i territori sono allarmati da 30 anni di mala gestione politica, che stiamo pagando sempre noi cittadini. E quindi la fine dell'emergenza è ancora lontana, perché non si può sperare di mandare i rifiuti fuori, pagando delle cifre enormi all'infinito. Ecco perché probabilmente presto verranno nuovi inceneritori e nuove discariche. Ecco perché si punterà soprattutto alla discarica. Infatti il commissario dell'emergenza dei rifiuti, il dottor Goffredo Sottile, è stato pagato semplicemente per non fare nulla, perché praticamente ha indicato un solo sito, e doveva indicare un sito, e ha indicato un sito situato sopra una falda acquifera, sempre dello stesso monopolista proprietario della discarica di Malagrotta, a fianco alla discarica di Malagrotta, senza la regolare via e quindi tutte le procedure che sono bypassate da questo commissariamento. e non solo, ha autorizzato un tritovagliatore. Ora, io mi sono incontrato diverse volte con il Ministro, ho fatto presente che l'Europa non considera il tritovagliatore come un trattamento, un pretrattamento dei rifiuti, tant'è vero che il 6 agosto il Ministro ha fatto una circolare in cui diceva che la tritovagliatura dei rifiuti non è un pretrattamento, eppure smettendo di fatto il suo commissario, perché l'ha nominato lui. Quindi, meno male che adesso se ne è reso conto che questa situazione è insostenibile, tant'è vero che dal 7 gennaio non verrà rinnovato il commissario, però adesso la palla aspetta alla regione che è la competente del piano rifiuti. Però, appunto, visti i precedenti e visto la situazione, siamo molto preoccupati e noi vigileremo affinché questi soldi vadano nella giusta direzione, affinché si cambi direzione, e vigileremo affinché tutti questi attori, che sono sempre gli stessi, che stanno sempre lì e occupano le stesse poltrone, finché non se ne andranno a casa, noi vigileremo affinché si cambi direzione. Grazie. Grazie, onorevole Vignaroli.